Io avevo sei fratelli, Augusto, Giovanni, Pepe, Guglielmo, Maddalena, Angelina e Maria. Stavamo in campagna per obbligare, alla vigna. Noi stavamo nella campagna, mio padre aveva le pecore, aveva i garzoni, perché le pecore ce n'erano tante e io non potevo andare a scuola. Noi, ma le vado in mezzo a tutti e mi ha portato da Roma a scuola, aveva una zia e stavo a bigare a via dell'Ormanda e andavo a scuola via dove, dalle sfore. Io sapevo leggere e cosa prima era rara. Mia madre sapeva leggere e mia madre non sapeva leggere. Le cose erano un po' più all'antica, però le facevano lo stesso, non buttavano niente. Mia madre sapeva leggere e hai una Round of Adria Grazie a tutti.